il problema che riscontro sempre tra i miei studenti che vogliono imparare a suonare la chitarra è sempre lo stesso il tempo infatti non hanno proprio il tempo di prendere la macchina o la bicicletta andare in una scuola di musica fare la lezione fisica tornare a casa esercitarsi per la lezione successiva e settimana dopo rincominciare questo loop non riescono quindi ad organizzare un percorso con un maestro o se lo fanno in presenza sono sempre di fretta e quindi niente concentrazione niente risultati ma parte tutto dalla testa perché pensare al lavoro pensare allo studio doversi organizzare è un problema reale che non vi permette non ti permette di imparare a suonare questa passione che in verità è facile per fortuna in questi anni ho creato una soluzione a questo problema ed è chiamato chitarra digitale che è un corso completamente online in cui puoi organizzarti le lezioni quando vuoi al tuo tempo e da dove vuoi potrai riguardare ogni lezione quante volte vuoi e puoi esercitarti comodamente da casa tua questo è fondamentale infatti ho molti studenti che grazie proprio a questo metodo a questo corso anche se non avevano tempo hanno potuto imparare questa fantastica passione della chitarra se vuoi accedere al percorso prenota pure una consulenza gratuita direttamente con me cliccando qui sotto in cui andremo ad analizzare la tua situazione e strutturare un percorso su misura per te noi ci vediamo dentro è stato un piacere ciao ciao